Questo è il mio box al momento, niente di incredibile, niente di incredibile però Quindi, tre multi su Venusaur Andiamo a fare la sua mega evoluzione per portarci un po' fortuna Vai così Venusaur Ok, uni ricerca Cominciamo Vediamo un po' Vediamo un po' Allora, vediamo se l'animazione ci verrà Non c'è aggancio incredibilmente importante, occhi normali, niente di che Niente di che, non c'è l'ombrellino Se la porta si apre con tanto fragore e luci No, non penso ci sia nessuna cinque Non penso ci sia nessuna cinque ragazzi Dubito Dubito Stiamo trovando tanti nuovi Questo già è Due su cinque Abumans no? Carino Niente di che Mil tank se ne va due Sì Questa è shaftata Di solito si capisce dalle animazioni O dalla porta o prima Io ho trovato, ho fatto una multi con Tre cinque stelle Senza Il L'aggancio Luminoso Eccetera Vai Riproviamo un'altra multi A cuor leggero ragazzi Ci andiamo a cuor leggero Vediamo se adesso l'incastro sarà buono o no Di nuovo Niente di che Non c'è ombrellino O ci sarà ombrellino Tiraci fuori l'ombrellino Però stavolta non ha tirato fuori il pernetto Mi aspetta una cinque stelle C'è una cinque stelle ragazzi C'è una cinque stelle C'è una cinque stelle C'è una cinque stelle Flotsel No questo bambino è troppo simpatico Questo pokemonetto qua Ok Flotsel di nuovo Chandelure Basta Ok Carracosta Sato caruccio Dove era cinque stelle ragazzi Eccola Non so se è lui Venusaur Verde E' lui E' lui E' lui E' lui Sì Sì Seconda multi Dai così Dai così E andiamo E andiamo ragazzi E andiamo ragazzi Seconda multi E andiamo così E andiamo così E andiamo così E ora la terza multi La andiamo a sculare Probabilmente da Blastoise Andiamo a vedere se la riusciamo a prendere Se la riusciamo a prendere Non vorrei pullare Tutti i cristalli che ho Dai così Olè Andiamo anche da Blastoise Con la mega evoluzione Col pizzetto Vai Io direi di fare un'ultima multi ragazzi Direi di fare un'ultima multi E non andare oltre E non andare oltre Quest'ultima multi Ci da un'animazione bella sgrava Facci chiudere con un'animazione bella sgrava Dai Olè Aggancio forte Cinque stelle penso sia sicura Attenzione Cinque stelle sicura Cinque stelle sicura C'è l'ombrellino Penso che ce ne sia anche più di una C'è l'ombrellino ragazzi Wow Dai così Dai così Dai così Dai così Ariados Dai così Va bene Due su cinque Pure lui due su cinque Questa è bellissima Con la chitarra è bellissima Wirlipiede Il Tucano Carini Anche questi a quattro stelle Non sono male Non conosco l'animazione Pre Blastoise Quindi non vi so dire Se sia Blastoise o no Ancora non li riconosco Non penso sia Blastoise però Questo è un pokemon Che ha la Kazam Con Sabrina no Andum Molto carino Andum Molto carino Andum Spero Però lui è molto bello Come personaggio Oh Un'altra cinque stelle Ma non è Blastoise Non è Blastoise Non è Andum Ok Roniculus Un'altra cinque stelle Un'altra cinque stelle Ma non è Blastoise Perché è verde Erba Chi è? Cicodita Va bene Va bene Ok doppia cinque stelle Tripla cinque stelle Ci sta Ci sta Però ci serviva Blastoise Ci serviva sicuramente Blastoise Tripla cinque stelle Non ci possiamo lamentare Tripla cinque stelle Non ci possiamo lamentare Non so ragazzi Proviamo l'ultimo multi Per cercare Blastoise O ci fermiamo qua Perché in realtà Ho anche Mi è anche stato Cioè È anche stato detto Ho visto in un video In cui I tre canto Non vanno Tanto bene insieme Perché c'è bisogno Sì Blastoise è buono Blastoise è buono Per Altri team Però giocarli tutti e tre insieme Non è proprio top Perché si ricercano molto L'unimossa tra di loro Trovi la mucca No ti prego La mucca ha fatto Che meraviglia Ti diamo molta energia A scegliere Dai L'ultima ragazzi L'ultima multi È il primo video pool Su Pokémon Masters E lo buttiamo anche su YouTube Ovviamente Ultima multi ragazzi Ultima multi Vai Ultima multi Blastoise Ti prego Arriva anche tu Così abbiamo i canto Con pochissime gemme Incastro non fortunoso Non uscirà probabilmente Niente di che Ci fai chiudere bene O non ci fai chiudere bene Male Se non si apre la porta Con la luce È brutta ragazzi È veramente brutta Noi schippiamo Cioè non schippiamo Ma andiamo avanti Così Tra l'altro Ci stanno incastrando Solo gli stessi personaggi Ok va bene Basta Basta Cianzi Ah no è blissi Ok Niente raga Questa non ci è andata bene Questa non ci è andata bene Ora il dubbio rimane sempre lo stesso Io mi fermerei qua sinceramente Non andrei oltre Metterei da parte anche perché È vero che sto all'inizio del gioco E di cristalli ne farò tantissimi Però mi fermerei Mi fermerei